Di nuovo buongiorno e ben ritrovati dagli studi del TG Noi per questa edizione del TG Giorno che dunque apriamo andando subito nel centro storico di Lucca, resta aperto il cantiere di via della Zecca. Lavori in corso ancora per qualche mese in via della Zecca. Il cantiere, aperto lo scorso luglio, avrebbe dovuto concludersi con il mese di novembre ma gli operai sono ancora al lavoro e la strada resta chiusa al traffico. Questo è un lavoro che deve essere terminato nel giro di tre mesi, poi va bene il tempo, va bene le cose, mi sembra che solamente due operai, tre ore per forse perché c'è la furia, ma è da giugno che questo qui è un cantiere, i disagi ci sono specialmente per gli automobilisti e per tutto. Non tutti però si rammaricano per questo ritardo. Questi operai fanno di tutto il possibile per quello che si vede noi, per il resto noi non ci possiamo lamentare, assolutamente. La strada che di solito è molto trafficata in questo momento ovviamente, è tranquilla, non so che si lamenti. I residenti di questa zona sicuramente no. Lo slittamento della consegna del primo lotto, hanno spiegato dall'amministrazione, è stato innescato dai ritardi nella fornitura della pietra di Matraia. Il materiale super resistente scelto per sopportare l'usura del traffico, bus navetta inclusi, che per difficoltà di produzione negli ultimi mesi è arrivato a Lucca con il contagocce. Vietato però chiamare quello di Via della Zecca un cantiere lumaca. Il cantiere di Via della Zecca, chi lo chiama cantiere lumaca, significa che non sa per nulla di cosa si tratta un lavoro pubblico. Noi puntiamo entro la prima decada del mese di febbraio ad aprire il primo lotto, quindi il primo lotto verrà riaperto, inizieremo immediatamente il secondo lotto e secondo i tempi quelli che sono stilati dal cronoprogramma dell'intervento, per cui la ditta dopo ha vinto anche una gara, verrà riconsegnato anche il secondo lotto. Ci spostiamo nella Valle del Serchio, ho scoperto una discarica abusiva a Fornaci di Barga. Una discarica abusiva a Fornaci di Barga, in Via Leonardo da Vinci, tra lo stadio Orlando e la strada di collegamento tra Fornaci e Bolognano. Ci era stata segnalata da alcuni spettatori ed una volta arrivati sul posto e capita l'entità del problema, abbiamo provveduto ad informare l'amministrazione comunale che con la sindaca Caterina Campani si è immediatamente recata sul luogo per verificare la situazione. La discarica si trova ai piedi di una ripida scarpata e c'è da capire se la sua estensione, oltre a quello che è visibile tra la vegetazione, una volta ripulita dal verde che ricopre il terreno di questa zona, possa essere ancora maggiore. Per quanto riguarda il comune di Barga, già lunedì mattina c'è stato un sopralluogo tecnico per poter avviare quanto prima tutte le verifiche per arrivare alla bonifica ed anche per cercare di rintracciare i responsabili di questo importante danno ambientale. Peraltro la discarica sorge non troppo lontano dal letto del fiume e quindi è quanto mai necessaria la sua rimozione. Purtroppo la discarica scoperta a Fornaci è l'ultima di una serie di discariche abusive presenti sul territorio della Valle del Serchio e che puntualmente vengono alla luce. Una problematica ambientale davvero notevole. Estese di un anno le concessioni balneari sulla costa apu-versiliese. Non solo la diffida degli ambientalisti e dei movimenti per le spiagge libere, adesso anche gli stessi balneari della Versilia e della costa apuana impugnano le delibere con le quali, alla fine di dicembre, i comuni costieri hanno esteso la validità delle concessioni demaniali di un anno, rinviando le aste al 31 dicembre 2024. L'iniziativa è stata lanciata in queste ore dal Sib Conf Commercio Toscana, che sta attivando un pool di esperti tecnico-giuridici per predisporre i ricorsi. Ma perché impugnare un atto che di fatto ha prolungato di un anno la vita delle concessioni, che per il Consiglio di Stato dovevano cessare con il primo di gennaio? Due i rischi che i balneari a distanza di un mese hanno ravvisato nelle delibere. Il primo è che di fatto molte concessioni, che erano state già prorogate al 2033 sulla base della legge Centinaio, si trovano di fatto accorciate al 2024. Il secondo è che i comuni, affermando questa scadenza, si preparano di fatto all'allestimento delle gare, già per quest'anno, dunque entro pochi mesi. Un atto che giudichiamo illegittimo, spiega il segretario del sindacato per la Versilia e Massa Carrara, Luca Petrucci, e oltretutto inopportuno politicamente, considerando il lavoro ancora in atto da parte dell'attuale governo, per risolvere una volta per tutte la questione delle concessioni, attraverso la cosiddetta mappatura. I balneari sperano ancora, infatti, che l'esecutivo Meloni la spunti su Bruxelles, escludendo gli stabilimenti dalla Volkestein, partita che resta ad oggi tutta in salita. Intanto la categoria resta in forte agitazione e si sta lavorando ad una nuova mobilitazione a Viereggio, già per i prossimi giorni, slegata dalle sigle sindacali. E dalla costa Apoversiliese ci spostiamo di pochi chilometri nell'entroterra, la fibra ultraveloce arriva a Stazzema. 1772 unità immobiliari del comune di Stazzema, dislocate sia nel capoluogo che in 13 frazioni, tra cui Cardoso, Pruno, Terrinca e Sant'Anna, sono finalmente raggiunte dalla fibra ultraveloce. Un traguardo ottenuto grazie al bando regionale per le cosiddette zone bianche, grazie a finanziamenti nazionali per il superamento del digital divide. I lavori sono stati eseguiti dalla società Open Fiber, che ha realizzato una rete di oltre 36 chilometri di fibra ottica. Un intervento indispensabile per superare il gap digitale tra quest'area della Versilia e il resto del territorio. Si entra anche noi a tutti i livelli in un contesto di parità con le altre realtà locali della Versilia, quindi abbiamo abbattuto quella differenza che c'era, oggi questa differenza con la fibra non c'è più. Tutto a posto adesso quindi? Beh, non proprio dato che la società, nella stesura dell'anagrafica per il controllo della copertura da parte degli utenti, ha commesso diversi errori, tanto da rendere necessario da parte del Comune aprire una linea telefonica dedicata per poter venire incontro agli utenti che necessitano di allaccio. Questo lo facciamo perché abbiamo fatto delle prove, quindi siamo in ritardo anche di un paio di settimane dall'annuncio, proprio perché abbiamo verificato che c'era questo problema ostativo. Però merita partire perché magari su 1.700 utenze, 1.500 vanno lisce, 200 hanno un problema, preferiamo affrontare il problema con i 200 che hanno difficoltà che non bloccare tutti i 1.700. Il numero da contattare in caso di difficoltà è lo 0584 775223. Sabato prossimo la prima sfilata, il primo corso del Carnevale di Viareggio 2024. Il giorno dopo, domenica, il Carnevale approderà anche sulle mura di Lucca. È iniziato il conto alla rovescia in vista della seconda edizione di Lucca in Maschera, il contenitore di eventi promosso dal Comune in collaborazione con il Carnevale di Viareggio che in questa sua seconda edizione prevede iniziative per tutto il mese di febbraio. L'evento di apertura, ovvero la sfilata del Carnevale di Viareggio sulle mura e in centro storico, ad ingresso gratuito, è in programma per domenica 4 febbraio a partire dalle ore 15. Il percorso prevede la partenza sopra Porta Sant'Anna per poi proseguire fino al Caffè delle Mura e successivamente in Piazza San Michele. Madrina d'eccezione della sfilata sarà Chiara Squaglia, volto noto di Striscia la Notizia, che aprirà la parata insieme ad Ondina e Burlamacco. Alla sfilata parteciperanno le maschere rionali Viareggine, 12 carri in miniatura, le mascherate di gruppo e le coreografie dei carri dei maestri della Cartapesta, ma anche gli sbandieratori e musici della città di Lucca, il corpo musicale Puccini di Nozzano e la banda La Campagnola di Marlia, per un totale di circa 400 partecipanti. Proseguono intanto le riunioni tra gli uffici comunali e le forze dell'ordine per coordinare i complessi aspetti logistici ed organizzativi della manifestazione, che verranno comunicati alla cittadinanza nei giorni precedenti all'evento. E su Noi TV da questa settimana torna una trasmissione storica. Monitor Italia. Ogni martedì Andrea Marcucci e il direttore Giulio del Fiorentino affronteranno temi di attualità, politica ed economia in un ciclo di appuntamenti con ospiti in studio, contributi e servizi. In programma confronti e dibattiti su temi di portata locale, ma anche nazionale ed internazionale. Primo appuntamento con Monitor Italia, oggi martedì 30 gennaio alle 18.30 e questa sera alle 22, in replica sabato sera alle 22.15. Ci spostiamo ad Alto Passo, parliamo del primo sportello di facilitazione digitale per i cittadini. Attivato ad Alto Passo, il primo punto di facilitazione digitale. Lo sportello è ospitato nei locali della Biblioteca Comunale, in Piazza Vittorio Emanuele, ed è pensato per promuovere l'inclusione e l'alfabetizzazione digitale per tutti quei cittadini che hanno bisogno di accorciare le distanze con la tecnologia. L'apertura del punto è stata possibile grazie a un finanziamento ottenuto in risposta all'avviso pubblico per la realizzazione della rete regionale dei punti di facilitazione digitale promosso dalla Regione Toscana e finanziato con risorse del PNRR. Per quanto riguarda l'utilizzo di smartphone, per quanto riguarda l'home banking, oppure lo speed, la grafia digitale e altri servizi che sono connessi all'utilizzo della tecnologia e degli strumenti informatici, ma anche per servizi di base, quali può essere la consultazione della mail o dei social network, c'è un servizio, c'è una persona ad hoc, grazie alla convenzione che abbiamo stipulato con la cooperativa Suocoforma di Lucca, che ci consente di far partire questo servizio in più che si aggiunge agli altri che già facciamo per la cittadinanza. Questo si tradurrà anche in un corso di organizzazione digitale che era già previsto negli anni scorsi e che era già stato realizzato e che viene implementato e potenziato con servizi che diventano non solo di gruppo ma anche individuali per il cittadino. Lo sportello sarà attivo il martedì e il giovedì dalle 8 alle 16, il mercoledì dalle 14 alle 20 e il sabato con orario 10-12. E con questo servizio si chiude la prima parte del Tg Giorno, linea alla regia, subito dopo le notizie sportive. Grazie a tutti. Grazie a tutti.